Ma che cazzo vuoi? Cioè io entro dentro e appena lo vedo... Ma che cazzo vuoi? Ma dico appena entro dentro... Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Hai capito? Tu vi rispiego? Ma che cazzo vuoi? Hai capito mo? Poi tu vi rispiego.